E' quasi mattina, un breve video con il quale spetta a me dare questa cattiva notizia. Non ce l'ho fatta a prevalere sul candidato del centro-destra che vince il collegio in questa provincia, il collegio uninominale di Arezzo, e quindi un breve video per ringraziare tutti coloro che mi hanno sostenuto in questa campagna elettorale. E' stato davvero un privilegio poter candidarsi, non solo rappresentare questo territorio negli anni passati, ma attraversarlo in lungo e largo per confrontarsi con le persone, nelle aziende, con i luoghi di lavoro, di associazione, di aggregazione. Lo slogan di questa campagna elettorale era dall'altra parte, continuo a rimanere della parte dei miei concittadini, a cercare di rappresentare nelle istanze ma con un ruolo diverso perché la politica è servizio e bisogna ovviamente ora prendere atto di questo risultato. Ringrazio anche tutti coloro che mi stanno scrivendo perché hanno seguito lo spoglio in diretta, ancora qualcuno mi chiede se ce la posso fare, se il risultato può essere ribaltato. Davvero una pista grande di parte d'azione e mi onora, però uno a uno domani ringrazierò tutti coloro che mi stanno scrivendo messaggi e che mi stanno telefonando o inviando comunicazioni sui social network. Grazie a tutti, sarà comunque occasione di parlare, di confrontarci i prossimi giorni perché non finisce qui questo impegno, ma sicuramente ci sarà occasione anche per affrontare in futuro ciò che serve a questo territorio da un'altra posizione ma sempre in interesse dei miei concittadini. Grazie.